Ad oggi sono stati approvati 5 progetti, quindi di 5 centri su 6. Itaca è l'altro centro che ancora non ha presentato il progetto. So che stamattina avevano una riunione all'Umea, cioè al distretto sanitario, proprio per cercare di risolvere la situazione. Da quando sono stati fatti i tamponi, quindi i test, sia per gli operatori dei centri che per gli utenti, quindi per coloro che frequentano i centri, gli esiti li abbiamo avuti l'8 giugno, lunedì 8 giugno. Il giorno dopo è partito il centro mosaico di Terre Roveresche, il giorno successivo è partito il CTL San Lazzaro, che è quello di Fano, a titolarità comunale. Domani riparte quello di Mondavio, l'Aquilone, e la settimana prossima ripartirà prima quello di Mondolfo, Rosa Blu, e poi subito dopo il centro Margherita di Pergola. Questi sono i 5. Su questo tema, il tema della disabilità, è un tema complesso, un tema delicato, in cui occorre serietà, rigore e responsabilità. Io eviterei qualsiasi strumentalizzazione. Solo nell'ambito di Fano sono ripartiti i centri diurni. Ne sono ripartiti, come dicevo, tre, perché uno riparte domani. Io non sono alla ricerca di nessun primato. Ci sono procedure complesse che vanno a tutela di questi soggetti, a tutela anche degli operatori che lavorano nei centri. Noi ad oggi siamo operativi. Poi, in questi giorni, stiamo cercando anche di sollecitare anche gli altri, appunto, dicevo, Itaca, anche gli altri due centri dell'ambito territoriale 7 di Fossombroni. Quanto riguarda invece i servizi a domicilio? La dirigente dei servizi sociali di Fano ha approvato proprio lunedì, due giorni fa, con un provvedimento suo dirigenziale, un protocollo. Quindi ci siamo presi una responsabilità. Questo protocollo cosa prevede? La, come si riparte con i servizi a domicilio. I servizi a domicilio sono il SAD, Servizio di Assistenza Domiciliare, il SED, scusate gli acronimi, Servizio di Educativa Domiciliare e poi ci sono alcuni progetti speciali. L'ha fatto solo Fano. A livello, abbiamo cercato anche di condividerlo con l'ambito. Alcuni comuni non ritenevano di prendersi questa responsabilità. L'abbiamo fatto solo noi. In questi giorni stanno ripartendo, stiamo chiedendo alle famiglie che le stiamo contattando tutte, gli uffici le stanno contattando, mettendo a disposizione un modulo per l'autocertificazione. Loro devono solo produrre un modulo per l'autocertificazione con la liberatoria e poi allegare il certificato del medico di medicina generale. Si può ripartire.